Safia Ma che co**o sta succedendo compasolo? B minutos Ma che stai a fare? Stai a fare coi Sì 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 Che cazzo fai, grazie! Allora, fai una cosa, visto che se stanno a picciare la gente ha perso, ho capito? Fanno che mi comincio ragazzi, fanno quinta del cazzo, ok? C'è sede? Presettate? E' in black? Però ragà, quando diciamo quella cosa del ciclo, dai, non faccio il video C'è un riscorro tutto per Dio! Ma vabbè! Ma tenete pure il cuorco Dio! No, ecco, ecco, qua sono tutti gli eventi, lascia i verti 3, 2, 1, 2, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7